Amici e amiche di Player Inside, bentornati qui su questo canale per il recap dell'evento Ubisoft Forward 2024 di questa estate di giochi, estate videoludica che va a rimpiazzare un po' quello che era il vecchio E3, la mancanza del vecchio E3, si nota? Si nota, però ecco i vari publisher stanno dando il meglio di sé, dopo Xbox abbiamo avuto Ubisoft che non ha mostrato tantissime cose però quello che abbiamo visto soprattutto all'inizio ci è piaciuto riguardo a Star Wars Outlaws, che uscirà il 30 agosto Ci è piaciuto moltissimo perché abbiamo visto una gestione del mondo di gioco che ci è sembrata parecchio interessante, a parte anche a livello tecnico A livello tecnico, a livello grafico, l'esplorazione, il combattimento, l'uso del piccolo companion per distrarre le guardie Ci sono stati due filmati in realtà di questo gioco, ovviamente ci sono stati presentati, intervallati da uno spezzone e appunto l'altra parte che faceva vedere, vedi, l'uso del companion che serve non soltanto a distrarre i nemici ma anche a compiere delle azioni come per esempio abbattere, c'era una scena in cui vediamo magari che qui si abbatteva un lampadario per farlo crollare sulla testa dei nemici insomma io ve lo sto descrivendo adesso, poi potete andarvi a recuperare appunto il trailer completo perché sono due trailer completi, molto lunghi anche Si è anche visto una fase di esplorazione spaziale Vedi, la reputazione La reputazione, esatto, la reputazione, quindi potete fare delle scelte Esatto Mi è piaciuta molto l'ambientazione, quanto è viva, i personaggi sono molto vivi A me piace anche lei, lo so che non è apprezzata da tanti No, no, a me piace Però piace anche la sua espressività E appunto si è vista anche un po' di esplorazione spaziale il fatto che la navicella proprio atterra sul pianeta quindi non c'è un viaggio rapido ma proprio si vede il momento in cui atterra tramite una sorta di caricamento mascherato Le ambientazioni sono molto belle Tra l'altro, secondo me, l'alternanza tra mondi di gioco suggestivi indipendentemente dal brand di cui fanno parte, ovvero Star Wars appunto per questo, secondo me, possono attrarre anche un pubblico non necessariamente così legato e fan di Star Wars perché anche noi non siamo grossi fan di Star Wars apprezziamo la serie, ma non ci strappiamo i capelli però questo, indipendentemente da tutto è effettivamente, o sembra essere, un'esperienza totalizzante per quanto riguarda, diciamo, mondi e creature aliene che non sia necessariamente da scriversi solo all'ambito degli appassionati di Star Wars ma giocabile e godibile da tutti Ma poi sembra proprio un'avventura da film mi è piaciuto che hanno incluso anche tante parti avventurose che ci sta, quindi non solamente fasi calme o di esplorazione Devo dire, una bella sensazione, molto bella come sensazione forse magari la parte che mi è convinta meno è quella relativa agli scontri proprio delle navicelle spaziali ma quello perché è una modalità di gioco che non apprezzo mai nessun tipo di gioco neanche Starfield, è la parte che mi ha fatto un po' più cacare Ora, signori, detto questo, ecco vedi, qua sta facendo partire in avanscoperta questo, che poi magari avrà un nome Un po' prima era la base Ecco, vedi, rompe l'oggetto È una cosa interessante Cioè, lo manda per attivare cose dalla distanza Esatto, e tra l'altro è Work in Progress che non rappresenta la versione finale del gioco Speriamo in senso positivo Che non si intenda un downgrade come per il famoso caso di Watch Dogs nel 2012 O, il gioco Star Wars Outlaws Uscirà il 30 agosto Il 30 agosto Poi passiamo a questo trailer di X-Defiant Anzi, X-Defiant Che sta andando molto bene questo Game as a Service Sì, velocemente, semplicemente ci sono nuovi contenuti della prima stagione che arriverà l'1 luglio Quindi praticamente tra un mese, meno di un mese Quindi si aggiornerà Noi non abbiamo giocato ancora a X-Defiant però non siamo grandi fan di questo genere No, 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 però ve lo riportiamo per voi che siete fan Per completezza delle informazioni Così come assolutamente per completezza delle informazioni vi riportiamo anche l'aggiornamento di Skull & Bones che è un titolo che sta andando per la maggiore in casa Ubisoft Sì, siamo alla stagione 2 Stagione 2, esatto Ed è già disponibile da adesso E contiene chiaramente vari aggiornamenti come un nuovo arco narrativo Attenzione con i nuovi signori del mare I gemelli Uba Che interessanti però questi personaggi Devo dire che sono forse più interessanti di tutti quelli che costituiscono il gioco base Almeno per la sensazione È vero, effettivamente è vero Non sono i classici pirati Fateci sapere qui sotto se state giocando a Skull & Bones e state continuando a giocare a Skull & Bones se avete davvero questo coraggio No, volevo dire Se non va buffato Insomma ragazzi fateci sapere se c'è qualcuno che ci gioca a Skull & Bones perché il quadruple A e sapere insomma che non ci gioca nessuno mi sembra un po' strano No, troppe A, troppe A Troppe A Troppe A forse per i vostri gusti Poi ecco Prince of Persia I 35 anni di Prince of Persia sono stati festeggiati in vari modi Pensate, il più vecchio di me Il primo di questi è un aggiornamento gratuito per Prince of Persia de Lost Crown quindi sono aggiunti diversi aspetti anche della storia No, allora il DLC storia sarà a pagamento arriverà più avanti però già adesso c'è un free update un aggiornamento con nuove sfide Che è un po' il pantheon di Hollow Knight no, vabbè più o meno cioè ci sono praticamente boss rivisitati e forse li puoi affrontare una sorta di boss rush e poi ci sono platform challenge Esatto e questo contenuto appunto è gratuito nuovi emuleti nuovi vestiti nuovi outfit eccetera un contenuto appunto gratuito è già disponibile invece il DLC della storia arriverà a settembre quello penso che sia a pagamento comunque se avete il season pass sarà incluso manteniamo il beneficio del dubbio abbiamo anche The Rogue Prince of Persia che sarebbe appunto il roguelike che è ancora in early access non abbiamo la data d'uscita però il filmato durava tre ore quello che parlava va bene qua abbiamo visto il gioco insomma il gioco lo potete vedere voi stessi anche dal video che ha fatto Midna sempre su questo canale ed è appunto in early access ma c'è già un contenuto sì però arriverà un nuovo update un nuovo aggiornamento il primo grande aggiornamento è il Tempio del Fuoco The Temple of Fire appunto una nuova ambientazione un nuovo bioma ci stanno ci stanno stando dietro a questo gioco attenzione perché qui io non ho capito l'esaltazione e l'entusiasmo dei presenti in sala alla rivelazione della data del remake di Prince of Persia Science of Time le sabbie del tempo perché si sono esaltati senza aver visto nulla e ricordiamo che è un gioco che era in sviluppo presso Ubisoft India e poi è stato rifatto presso Ubisoft Montreal 2026 e tutti hanno fatto applausi si sono spellati si sono esaltati perché raga cioè io qua mi aspettavo che facessero vedere qualcosina di questo nuovo corso visto che l'hanno rifatto da zero cioè non solo mancano ancora due anni ma per giunta non mi fa vedere niente ok appunto per questo non mi fa vedere niente però non mi sarei proprio esaltata magari forse non avrei fatto vedere nulla a questo punto non avrei detto niente e basta perché tanto come di Beyond Good and Evil 2 del quale hanno taciuto abbondantemente a questo punto avrei taciuto anche di questo vabbè ragazzi se non altro abbiamo un indizio abbiamo un hint c'è un contenuto aggiuntivo anche per Avatar Frontiers of Pandora che voi sapete io non ho apprezzato granché questo titolo ed è un DLC della storia che arriverà il 16 luglio The Sky Breaker si chiama appunto a partire dal 16 luglio 2024 per tutte le piattaforme altro titolo che beh sì si è fatto apprezzare giusto ho provato appunto anche sul secondo canale per due volte ovvero The Crew Motor Fest esatto praticamente arriverà a novembre la stagione 2 con nuovi veicoli nuova playlist e diversi altri contenuti è il cane possiamo dire tutto ma Ubisoft aggiorna i suoi giochi sì li supporta fino allo sfinimento piccola sorpresina che non mi è dispiaciuto ovvero anno 117 Pax Romana che è stata preceduta da questo ampio filmato da questa ampia scenetta insomma però poi alla fine si scopriva che anno anno 117 Pax Romana ovvero ambientato praticamente nell'impero romano voi quante volte pensate all'impero romano durante il giorno? tante ebbene anche Ubisoft a quanto pare vuole accontentare comunque uscirà nel 2025 ma ragazzi passiamo da Assassin's Creed Shadows è stato dedicato a questo gioco un ampio spazio abbiamo visto le ambientazioni molto belle ovviamente le ambientazioni del Giappone feudale i due protagonisti ha iniziato appunto con Yasuke che è il samurai sì attenzione si possono pettare i cani quindi voto 10 su 10 voto 10 tra l'altro quando lui passa per strada la gente si inchina e si inchina perché appunto lui è un samurai lo riverisce abbiamo visto delle fasi di combattimento perché Yasuke è più un personaggio dedicato col focus sul combattimento sull'impianto più pesante ecco del combattimento quindi lui combatte con queste katane con queste mazze giganti questa arma non so come si chiama è una mazza laminata una mazza con i denti quando i nemici attaccano e fanno attacchi imparabili colpiscono con un lampo rosso ma lui li anticipa in questo caso invece quando il lampo è blu si possono parare questo blink questa sorta di bagliore più che il lampo ecco lui è molto pesante nei movimenti perché è pesante in effetti ha una certa stazza e anche l'arma che impugna non è sicuramente leggerina è bello il fatto che si rompano le armature anche se non sempre probabilmente colpendo in certi posti vedi che gli si illumina di giallo forse vuol dire che gli si sta per rompere allora notiamo però in Assassin's Creed Shadows gli stessi vizi di fondo che hanno caratterizzato gli ultimi episodi per esempio qui c'è il nemico che è il bersaglio di questa situazione mi soffermerei un attimo su questa modalità quindi su Yasuke che si sveglia dice non ha assistito a tutto quello che c'è stato prima cioè il genocidio esatto guarda chi c'è quando ti avvicini lui si rende conto ecco che fa capire come lì ha ma certamente si è rimasta un po' allo stadio che avevamo già lasciato ai precedenti capitoli insomma beh diciamo che un po' tutto quello che abbiamo visto sa tanto di già visto esatto lo abbiamo già visto sia come ambientazione sia come combattimento sia come tutto come impianto di gioco per carità siamo cioè ci piace quello che vediamo però non ci fa volare non possiamo dire che ci siano delle grandissime novità no questo è fuori di dubbio che sappia tanto di già visto è fuori di dubbio io avrei qualche remorina anche proprio sul combat system vedete qua vedi qua che gli taglia la testa però è un po' censurato con questa grafica si 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 che è appunto in bianco e nero con il solo sangue rosso poi viene introdotto appunto l'altro personaggio che è Naoe a cui viene affidata la fase stealth perché lei è più sulla fase stealth però attenzione ragazzi anche lei combatte cioè non è che dovete giocare per forza stealth con lei però è più consigliabile con lei utilizzarla e sceglierla perché poi potete switchare quando volete per le fasi più stealth non c'è l'uccellaccio che vi va a marcare nemici niente aquile falchi però ovviamente c'è l'occhio dell'acula lì ci sta perché anche se l'occhio dell'acula è stancato ci sta perché è un'invenzione di Assassin's Creed l'occhio dell'acula ci deve stare vedi lei qui ha creato un diversivo però poi il nemico non la vede perché cosa hanno fatto hanno fatto uno stealth basato sulle luci e le ombre quindi finché tu sei in ombra non ti vedono lei infatti ha spento la luce lui non l'ha vista però questa cosa non è molto realistica al 100% perché l'ombra non è che è nero totale oddio però volendo ora che me la fai pensare così ci può stare quindi se tu distruggi la fonte di luce puoi muoverti nell'ombra crei il buio è molto gameplay oriented io credo che non è che proprio non ti vedano totale semplicemente magari la barra di allerta si riempie più lentamente ecco poi il classico Assassinio dall'alto che insomma abbiamo visto mille volte immancabile anzi avrei voluto vedere anche il salto della fede ma non si è visto no non l'hanno fatto vedere forse il primo trailer in cui il trailer di gameplay d'esordio in cui non si mostra un salto della fede forse no esatto dovremmo andare a ritroso a recuperare tutti gli altri comunque al di là della meccanica delle ombre non ho notato nuove cioè vere novità dal punto di vista dello stealth e anche questo è molto visto e battuto già negli scorsi Assassin's Creed e anche in tantissimi altri giochi ecco qui la sta prendendo e la sta mettendo KO perché non è giusto ucciderla anche se puoi ucciderla puoi ucciderla caro mio le texture di questo uccello le texture di questo quadro non sono per niente di questa parete non sono per niente belle però dico puoi distrugge puoi ucciderla ma è innocente è una cosa carina che però si è vista anche in altri titoli la possibilità di uccidere attraverso le pareti ovviamente di carta di cartone perché se fossero di cemento armato ci sarebbe qualcosa che non va è una cosa carina a meno che non siano delle salgome alla mamma ha perso l'aereo e allora ti confondi signori però io anche in live ho espresso un mio personalissimo dubbio su questo nuovo capitolo di Assassin's Creed ovvero che è tutto quello che ci aspettavamo e tutto sommato è l'Assassist's Creed nel Giappone feudale che tanti di noi volevano già da tempo da parte di Ubisoft anche se poi c'è stato Ghost of Tsushima ed altri titoli perché il Giappone feudale sta andando sta andando come l'acqua ragazzi in questo periodo però non mi ha dato quella sensazione di volerlo giocare immantinente di volerlo giocare subito di non vedere l'ora di averlo tra le mani cioè paradossalmente Star Wars Outlaws ti ha dato più la sensazione vorrei giocarlo adesso da non fan di Star Wars ho sbavato per Star Wars Outlaws molto meno per Assassin's Creed Shadows che giocherò perché lo dovrò giocare perché me lo giocherò però come ho già detto in live condivido questa cosa nel senso che io in realtà vorrei giocarlo subito Assassin's Creed perché sono ancora fan anche di questa formula però allo stesso tempo ma qui era alla luce non l'ha vista qui non si capisce infatti lei era illuminata era lontano allo stesso tempo effettivamente è tutto già molto visto sia l'ambientazione che le meccaniche che tutto anche i movimenti non sempre convincenti quindi il moveset a parte abbastanza riciclato ma non convincentissimo esatto cioè è come se l'avessi già giocato questo gioco perché talmente abbiamo giocato cose simili che l'ho quasi già giocato anche perché forse questo trailer vedete si è girato di scatola questo trailer forse non ha fornito degli spunti per farci capire l'impronta autoriale dell'opera quel carisma che forse sarebbe dovuta trasparire dai personaggi che non c'è stato almeno da questo trailer forse un po' più dagli asche e da lei nelle fasi stealth vedete che qui ha lasciato perdere la fase stealth e sta affrontando vis a vis questi nemici perché ormai è stata scoperta signori allora io sono del parere che sarà potrebbe essere una bella opera però personalmente devo riuscire a trovare la voglia di giocarci con quella come dire stessa passione che hai sempre avuto per Assassin's Creed fatemi sapere se condividete la stessa sensazione mia che in realtà mi porto dietro da un po' nei confronti di questa serie che ho tanto amato in passato e che adesso amo però di meno io continuo ad amare mi è piaciuta anche la cosa delle stagioni vedremo come sarà utilizzata l'alternanza però effettivamente si sa già visto signori e con questo messaggio finale chiaramente intriso di una grossa dose di soggettività che vi lasciamo e non vediamo l'ora comunque di mettere le mani su tanta della roba che si è vista per il resto ragazzi è una conferenza di Ubisoft che ha lasciato un po' il tempo che trovava senza novità reali se non appunto Star Wars cioè senza nulla che non si fosse già visto senza World Premiere chiamiamole così e con tanti addonne aggiunte per titoli che non hanno neanche riscosso tutto questo successo come Scala e Monza e vi dicendo signori grazie mille alla prossima